Piana di Gioia Tauro, strada statale 18, un mese dopo la rivolta degli africani di Rosarno. Qui sorge l'ex opera Sira, lo stabilimento industriale per la raffinazione dell'olio più grande d'Italia, mai entrato in funzione. Prima della rivolta dell'8 e 9 gennaio 2010 era il rifugio di circa 1000 lavoratori stagionali, provenienti principalmente dall'Africa centro-occidentale. Oggi è un paesaggio desolato, risultato di una fuga precipitosa, di un trasferimento improvviso e disordinato. Tutti i polizi vengono qua e hanno detto a tutti a uscire. Tu vuoi e prendi come, se non vuoi prendi il treno. Chi ha potuto è salito su un treno ed è tornato nella provincia d'Italia da cui proveniva. Qualcun altro, dopo essere passato per i centri di identificazione ed espulsione di Bari e Crotone, ha trovato una sistemazione anche in altre città, grazie alle associazioni antirazziste oppure dorme nelle stazioni ferroviarie, in attesa di capire dove andare e cosa fare. Oggi la fabbrica è presidiata dalla polizia. È proibito abitarci, ma qualcuno torna a rovistare in cerca dei pochi effetti personali che ha dovuto abbandonare frettolosamente. Io lascio le mie cose qui, è quello che mi arrivo per prenderlo, con i miei amici. Le persone sono soggiorno, quindi ho ricevuto. Ma per andare a Napoli non c'è la transportazione. Quindi ero qui per trovare un lavoro. Se ho ricevuto due o tre giorni di lavoro e ho ricevuto la transportazione, poi mi arrivo a Napoli. È quello che mi arrivo qui ancora. E le persone siano di tornare ancora perché ciò che è successo. Privi di qualsiasi appoggio istituzionale, quelli che sfidando la paura sono tornati a Rosarno possono contare solo sul sostegno dell'Osservatorio Migranti Africalabria. Per alcuni di questi lavoratori tornare in queste terre è stata l'unica soluzione. Senza un euro in tasca, spaventati e delusi, hanno pensato che una volta passata la bufera potessero ancora rimediare qualche giornata di lavoro. Si chiama Hassan, chi mi ha detto «Lass, senti, io voglio tornare a Rosarno perché ho sentito che il problema adesso è un po' umano, non posso stare così». Lui stava a Roma, noi a Treviso. Ho detto a Maduro, dai andiamo. Se dobbiamo morire a Rosarno, moriamo là. Sì, dobbiamo morire in Senegal, non lo so. E di qua dobbiamo morire. Ma andiamo a lavorare, è meglio stare così. Ancora poche settimane finirà la stagione delle arance. Eppure gli alberi sono carichi, molti frutti cadono a terra e lì marciscono. Sembra che oggi a Rosarno non ci sia più bisogno di mano d'opera. Non le mette nessuno a lavorare, capisci? Perché l'arange vanno poco, 5 centesimi. Erano migliori i prezzi. Arrivano fino a 15 centesimi l'arange. Se io metto operai non mi resta niente, nemmeno un centesimo. Ci rimetto di tasse, perché noi l'arange le consegniamo. A noi le pagano nel mese di agosto. Se le pagano. Se le pagano, eh. Che dopo arriva che la fabbrica faccia faiitte, fallimento, chiudi. Vai là e non trova nessuno. Gli africani di Rosarno ora più che mai vivono alla giornata. Hanno trovato rifugio in casolari abbandonati nelle campagne e lì stanno nascosti, quasi invisibili. C'è la possibilità di un lavoro pagato a forfè, ma nessuna giornata retribuita. Nessuna sicurezza di una paga certa. Io lo cedo, lo cedo, lo cedo. Lui mi ha detto, non posso ti prendere come giornata, ma mi aiuti. Poi io ti aiuto per comprare da mangiare e così stanno a lavorare qua. Ma se ti dico io che c'è lavoro qua, adesso non c'è. Così questi fantasmi di Rosarno vagano per le campagne, tra gli alberi da frutto, come gli spettri di una brutta storia fatta di sfruttamento del lavoro, intolleranza e diritti negati. Rosarno, 1 febbraio 2010, gruppo indagini e fotografi senza frontiere.